Io ho deciso di impegnare per il mio paese già da giugno, perché avevo tantissime cose che non avevano niente e che non avevano i miei. Quindi in questo momento ho pensato che l'impegno è fondamentale, l'impegno di tutti, non siamo pochi in Barmese oltretutto. E quindi come è già possibile entrare in questa comunità, in 21 anni, prima come consigli, poi a SESU e alla fine sindicato, e poi in comunità montana torna come SESU all'agricoltura e alla cultura, e ora torna a sindicato e quindi cerco di portare avanti questi impegni. Sono impegni che ci sono cercati di improntare in una certa maniera, perché ritengo che le risorse del nostro territorio, se non appunto sanno che c'è, c'è una manca di cercare quissà cosa e quissà andrà, poi sfruttare il nostro patrimonio, che sono patrimoni naturali, paesagistici, storici, culturali, c'è una storia, c'è una lingua, c'è una cultura, e la possibilità di portare a Dauti e fare in maniera che i giovani si avvicinano il nostro territorio in maniera. Quindi forse abbiamo un po' modificato proprio il tipo di attività del nostro territorio e abbiamo creato una sorta di turismo, che vengono male e vengono in tante direzioni che ora i vengono in maniera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.